Siamo con Stefano Turchi, finalmente Stefano possiamo annunciare, dopo che tante volte purtroppo abbiamo dovuto dire i locali dello stadio non erano stati liberati per il Museo Amaranto, adesso è stato finalmente sgomberato. Cosa è successo? È successo che grazie all'impegno dell'assessore Nesini e anche di Matteo Nardi dell'Ufficio del Patrimonio che si sono dati veramente da fare, il 12 dicembre 2017 finalmente il Museo ha avuto la sua casa. Siamo in attesa di avere le chiavi perché dovevano fare delle cose, però diciamo che è tutto pronto, non pronto il Museo perché ora inizia il vero lavoro, ci sarà da mettere a posto i locali, ci vorrà tempo, ci vorranno materiali, impegno fisico e impegno finanziario. Intanto voglio ringraziare voi perché questo è il momento di ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, Arezzo TV con te in particolare, ci siete sempre stati vicini in quest'anno, vicini quando si sono fatte le manifestazioni con il Calcita al Centro Affari, quindi è giusto ringraziare chi ci ha aiutato. E poi ecco un appello, già io comincio a farlo a tutti coloro che ci sarà bisogno di mano d'opera già per pulire i locali perché bisognerà dargli una pulita. Dopodiché una volta fatto il progetto a quel punto ci sarà bisogno di mano d'opera, elettricisti, tutto quello che sarà possibile.